cazzo di panacca che mi sono tirato sulle cosce mi serveva la copertina bentornati e ben ritrovati so che stavate sperando ci fosse il buon Fabio appena avete visto l'intro stile Halloween no Halloween è finito non rimaniamo neanche più in tema perché è passato pure ogni santi siamo al 2 di novembre e oggi mi sono attrezzato sembra che sto a fare una cosa vabbè c'ho la base per tenere il telefono agevolmente perché di solito tenevo così e mi spaccavo una mano ogni volta Fabio mi ha dato buca, mi ha dato sola però tranquilli mi ha detto che se lascerete una marea di like su questo contenuto porteremo anche il suo commento su tutte le partite che abbiamo visto finora lasciare like non vi costa niente lasciatelo e vi assicurerete anche quel contenuto ovviamente devo analizzare la partita tra Monza e Milan seguitemi e attivate le notifiche cliccando sulla campanella quando pubblichiamo qualcosa resterete sempre aggiornati e non vi perderete più nulla vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio e un extra calcio tutti in descrizione come sempre compariranno qui durante il video allora siamo al novantesimo la stavo vedendo di là con mia figlia incazzata perché gli ho tolto l'ucilla, i cartù tutta la roba che vede su YouTube lei e io l'ho messa sul telefono della mia ragazza della mia compagna per così dire perché ormai c'è una figlia chiamarla ragazza insomma mi sembra un po' riduttiva donna raccogliare a chiave che è mio cognato che esce dal bagno che poi ci si allunga sopra porca mignotta speriamo che se sentite il botto ci si è allungato sopra e la stavo vedendo adesso però ho messo la diretta testuale quindi aggiornamenti in tempo reale io penso che alla fine la partita ormai finirà così se la porteranno a casa vinceranno 1-0 e la mia schedina potrebbe sorridere non poco se non mi seguite su Telegram vi invito a venirmi a seguire passate su Instagram nelle stories c'è il link perché io avevo previsto una vittoria per il Milan però ve lo dico onestamente non mi aspettavo una vittoria del genere non me l'aspettavo di Orto Muso 0-1 non mi aspettavo mi potevo aspettare che ne so un 2-0 per i rossoleri un 2-1 qualcosa del genere ma soprattutto non mi aspettavo l'atteggiamento del Monza come cazzo ha interpretato questa partita e soprattutto Daniel Maldini che ogni volta che vede il Milan ragazzi si infervora e mette in mostra tutte le sue qualità mentre poi cominciava la partita del Milan e questo è un dato molto interessante un'esclusiva di Di Marzio se non erro o forse di Fabrizio Romano non lo so comunque a me su Twitter è arrivata la notifica di Di Marzio su Daniel Maldini c'è una clausola rescissoria per l'Italia da 12 milioni di euro per l'estero 15 milioni di euro il Milan che lo ha ceduto a titolo gratuito al Monza c'è il 50% sulla futura rivendita quindi anche questo è un dato interessante visto quanto sta alzando l'asticella Daniel Maldini anche in ottica nazionale e soprattutto anche guardando quello che ha fatto all'interno di questa partita io quando veniva criticato che tanti dicevano ma all'inizio della stagione un mese e mezzo fa due mesi fa ma chi cazzo è Daniel Maldini c'ha solo il nome non è buono a giocare a pallone vi ricordate quello che vi dicevo è un calciatore importante c'ha bisogno di un minimo di continuità di alzare l'asticella nell'esatto momento in cui trova un allenatore che gli dà continuità può fare gli sfraceli può fare veramente i solchi vedissi all'epoca mo stasera perlomeno finora siamo al novantesimo non è riuscito a segnare però è indubbio che è stato sicuramente il calciatore più pericoloso per il Monza per il Milan nel senso ci giocava contro ha creato due tre occasioni da rete alquanto interessanti poi tra situazioni di annullare cavoli pari insomma ha dimostrato quella che è sto a cambiare mano perché mi sta a fa male quella che è la sua la sua dimensione e soprattutto nel primo tempo secondo me ragazzi il Monza strameritava di passare in vantaggio il Milan io non mi ricordo a parte il gol che poi è arrivato nel momento peggiore praticamente per i rossoneri e che li aiutano a vincere voi penso sta partita vedremo come effettivamente finirà mi voglio concentrare anche sul gol annullato ah no era Danimo da Carvaio scusatemi per un attimo stavo a pensare a Maldini e vi dico quello che ho visto io in presa diretta un semicontatto sembra esserci a velocità normale per come cade Deo Hernandez io pure avrei detto quello che ho detto lì per lì questo gol glielo annullano poi però effettivamente riguardandolo attentamente ragazzi secondo me ci volete più per annullare un gol e quando Onesta dice pure questo ma è annullato ve lo dico in maniera completamente onesta al netto poi di tante situazioni a sfavore arbitrali per il Milan quindi a chi tocca non si ingrugna ma io non mi sarei meravigliato qualora avessero deciso per non annullare questo gol che sarebbe pure stato meritato ribadisco per tutto quello che il Monza ha dimostrato soprattutto nel primo tempo di questa partita con Maldini che una volta te piglia il legno era fuori gioco ecco quando era stato annullato non il gol ma il palo una volta tira fuori te poco poi megnano non mi ricordo su chi ma una pezza clamorosa ragazzi ce l'ha messa ecco insomma primo tempo a stampo Monza assolutamente ti passano in vantaggio nel momento migliore del Monza ti arriva una mazzata traccata e collo e lì ragazzi io continuo a sottolineare quelle che sono le caratteristiche di un centrocampista che a me fa impazzire caratteristiche che a noi attualmente ci mancano nel centrocampo della Roma perché questo è un centrocampista moderno che sa fa tutto sa attaccare sa difende sa aggredire gli spazi sa colpire di testa sa tirata fuori noi ci avremmo così forse Pisilli c'erano Boe e ce l'hanno levato forse Pisilli è uno che incarna delle caratteristiche abbastanza simili ma Reinders c'ha pure delle caratteristiche dei palleggio clamorose che secondo me Boe non ha se proprio devo ripensare a uno dei quanto mi piacerebbe avere un calciatore del genere che ti sposta agli equilibri che ti risolve le partite che c'ha il fiuto per il gol che sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto a prescindere colpo di testa contro colpo di testa rimpallo e hizo così e quello colà sta a decidere una partita pesantissima perché è una trasferta pesantissima fatemi guardare non sto più osservando ma siamo al 93 penso che avranno dato quattro minuti di recupero siamo 0-1 per il Milan ti sta spostando gli equilibri sta partita in vista anche della partita di Champions League il Milan c'ha Real Madrid non mi ricordo se ha San Siro non c'ha San Siro c'hanno Real Madrid alla prossima e così Fonseca spiega il mancato utilizzo di Leao dal primo minuto poi l'ha fatto subentrare qualche pericolo Leao sicuramente l'ha creato ma io continuo a ribadire credo poco a questa versione secondo me c'è qualcosa dietro ragazzi c'è qualche screzzo c'è qualche situazione che cercano di tenere di tenere nascosta secondo me qualcosa effettivamente c'è vediamo se parte titolare contro Real Madrid allora arrivati a sto punto e nel secondo tempo c'è Tati un'altra cosa che ragazzi il Monza sicuramente è vistosamente calato secondo me per come li ho visti ripartire in campo non è che abbiano creato tutte queste grandissime occasioni pericolose e il Milan sicuramente ragazzi poi con con le au che che subentra insomma sicuramente ecco paradossalmente nel secondo tempo è stato il Milan adesso un po' più pericoloso ma anche perché sono andati forse in overconfidence per il vantaggio per aver sbloccato la partita e dal punto di vista della classifica a meno che veramente a qualche secondo dalla fine il Monza sta partita ante la pareggia è una vittoria pesante è una vittoria importante è una trasferta su cui parecchie squadre di Serie A secondo me è quest'anno c'è inciamperanno non mi ricordo se ci abbiamo giocato noi in casa non mi ricordo un cazzo ma se ci dobbiamo ancora giocare sicuramente ragazzi ci fanno danni a mio modo di vedere in casa loro del Monza e secondo me per quello che hanno dimostrato stasera ragazzi ci hanno solo 8 punti e forse è un po' poco se non mi ricordo male il Monza ha affrontato parecchie parecchie big forse all'inizio tante partite difficili erano loro non vorrei di una cavolata sposto cambio mano perché mi sto me sto a fa male e forse gli sta no forse cioè io vi arrivo a dire che forse il risultato più giusto di questa partita sarebbe stato il pari calato vistosamente il Monza nel secondo tempo ma per quello che abbiamo visto nel primo d'altra parte il rovescio della medaglia è che per il Milan ragazzi dopo la sconfitta contro il Napoli serviva a cambiare rotta e serviva assolutamente una vittoria questa è una boccata d'ossigeno che rimette i rossoneri in una situazione anche di tranquillità non solo in vista dell'imminente scontro della Champions League difficilissimo se non impossibile contro il Real Madrid poi ne parleremo sicuramente con Fabio a bocce ferme ma anche proprio per la situazione declassifica te togli ragazzi un peso non indifferente il Milan nelle ultime tre partite esclusa questa ha due sconfitte e una vittoria per una squadra che vuole lottare per la Champions che a bocce ferme come la consideravate voi? voleva lottare per lo scudetto? secondo me sì cioè secondo me il Milan voleva provare a dare fastidio per essere pericolosa per lo scudetto ad oggi c'ha 17 punti quindi sicuramente un minimo la china la sta risalendo poi vi ricordo anche un'altra cosa importante c'è la partita di recupero contro il Bologna che gli potrebbe regalare altri tre punti e in quel caso insomma è una partita tosta da giocare che poi si giocherà anche più in là nel tempo quindi poi bisognerà vedere quando entrambe le compagini si beccheranno in che periodo storico chi starà meglio chi starà peggio e quando Fonseca dice mo' a prescinde dai motivi per cui è stata annullata la partita è stata rimandata rinviata ti falsa al campionato te lo falsa sia dal punto di vista del Milan che dal punto di vista del Bologna perché poi te sconquassano quelli che sono tutti gli equilibri e comunque il Milan fino a febbraio per quanto sanno che hanno una partita in meno ma hanno la percezione di potenzialmente avere tre punti di meno quindi un minimo secondo me te la condiziona ma non vale solo per il Milan e per il Bologna vale in generale per tutte le altre squadre secondo me cioè è finita in questo momento ragazzi so tre punti pesantissimi quelli che si prende il Milan assolutamente quindi ribadisco la mia schedina la mia schedina ride rido pure io però Monza che c'ha qualcosina da recriminare io vorrei sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti se voi nei panni dell'arbitro avreste annullato il gol a Danimo da Carvaglio o seppure avreste lasciato correre posta qua sotto nei commenti grazie per la visione cambio mano perché devo spegnere ci vediamo alla prossima con un nuovo video